La Battipagliese ha disputato ieri pomeriggio la seconda amichevole del suo precampionato, affrontando allo stadio Pastena la Gelbison Cilento, formazione che milita nel campionato di Serie D. Le zebrette, dopo una buona prima frazione di gara conclusasi sul risultato di 1-1, con vantaggio bianconero con l'ultimo arrivato Pier Giuseppe Sagginario e pareggio vallese con Filippo Romanelli, sono andate sotto ad inizio ripresa per la rete di D'Agosto, ma con grande tenacia sono arrivate alla rete del definitivo 2-2, grazie al sigillo di Annese. La Battipagliese tornerà in campo domenica alle ore 16 per la prima gara ufficiale della stagione, la partita d'andata della Coppa Italia di eccellenza allo stadio Pastena contro il Solofra.